Sto da Pacento qui, 17 settembre 2022, adesso sono passate le 17 pomoreggio, quindi questo è il sentiero che conduce la grotta, la grotta archeologica, la prossima volta vi conduco alla Tanna dell'Istice, la Tanna dell'Istice si trova qui, a riprova che c'è stato l'Istice, ci sono tuttora gli aculei, gli aculei, quindi qui sotto, qui si incontra una serie di ostacoli, l'ingente dolosi di qualche anno, ha causato il deperimento dell'apparato radicale e quindi il vento ha buttato tutto giù per terra. Vedete i pini? Ecco anche quest'altro, io proseguo verso le grotte. Grazie a tutti.